Speriamo si fermi, sono davvero buono. Ehi, lo hai visto? E' lui! E' il simbato il marinaio. Ma no, quello è lì babà. Babà, buoni babà. Le vite degli uomini seguono disegni imperscrutabili. Io so di avervi già visto. Sì, figurati. Voi siete spiriti liberi, è vero, eh? Certo. Pecerei, sono profondamente lieto di fare la vostra conoscenza. Era tempo che le nostre strade si incrociassero. E ora permettete che mi presenti. Il mio nome è... Raggio Splendente. Ma i miei discepoli mi chiamano il Nazariota. Che cosa? O Nazariota. Io comunico alla gente la fiducia nei valori dello spirito. E invece loro hanno fiducia nella tv, nei supermercati hanno fiducia. Insomma, la mia è una missione difficile. Io tengo una comune a Roma, un'oasi di pace e di tranquillità spirituale. Insomma, il posto è giusto per gente libera come voi. È una grande famiglia. Ecco, questo mettiamolo qua e cominciamo la cerimonia dell'iniziazione. Venite, venite tutti, venitevi a fare una bella fischiata con queste due novizie fresche e generose. Simboli d'amore, libertà e disinteresse. Sì, questo è il momento. Se gli essa fa fotoconsumismo, che c'è di meglio di farsi una bella fischiata? Trasita, trasita, trasita. Voi ridete, ma nella mia comune vi offro tre pasti al giorno e un posto per dormire. Camerai con la crisi dell'oggi che c'è? Ciao. Ciao.